Siamo alla Basilica di Sant'Ambrogio e ascolteremo il Budapest Monteverdi Choir direttrice Eva Collardi. Siamo molto felici per ottenere questo invito per la musica di Renaissance, perché una città come questo, e una repertoia come questo, Victoria, Palestrina, Monteverdi, è fantastico, è la musica per questa città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.